Torna Flash Quiz, il gioco di Italia 2 TV. Quest'oggi il premio in palio per chi riuscirà ad indovinare l'oggetto misterioso e il buono sconto del valore di 30 euro offerto dalla Conad di Antonio Biscotti. Flash Quiz si ferma però domani 25 dicembre e mercoledì 26 dicembre. Il nuovo oggetto misterioso da indovinare ritornerà infatti giovedì 27 dicembre, quando sarà messo in palio il buono sconto del valore di 30 euro offerto dalla boutique Fevian di Polla. Flash Quiz di Italia 2 TV va in onda dal lunedì al venerdì prima dei telegiornali a partire dalle 14 all'interno del nuovo contenitore Vedi Video e Vici. Il primo che riuscirà a scoprire l'oggetto misterioso per aggiudicarsi il premio in palio dovrà inviare immediatamente la risposta esatta all'indirizzo mail flashquiz-italia2tv.it oppure potrà scrivere sulla pagina Facebook di Flash Quiz. Farà fede la data e l'orario dell'invio della mail o dell'inserimento su Facebook.